I playoff ora sono davvero in cassaforte, a dare l'ufficialità ad un risultato che quantomeno era nelle previsioni precampionato, arriva la vittoria esterna, la seconda consecutiva. E se a Sassari era servito un overtime per battere la concorrenza dei Sardi a Cantù, che tanto bene si era espressa al Palacastrum, bastano due quarti giocati col piede pigiato sull'acceleratore. La sveglia dopo un primo tempo equilibrato arriva negli ultimi 20 minuti, quando i giovani lombardi calano vistosamente in attacco, proprio nel reparto dove l'amica comincia ad ingranare. I parziali d'altronde parlano chiaro e se alla sirena del terzo il vantaggio è di nuove, per gli uomini di Anna Cardoso l'ultima frazione non fa che confermare un trend confortato allo squillo finale. E dire che Raimondi e soprattutto Pedretti giocano una grande gara e che il roster giuliese era falcidiato da quattro assenze, tutte causa febbre. Ma gli spareggi promozione erano un obiettivo troppo ghiotto da poter mancare, con Padova che riposava. E così il 47-67 finale e il saluto dell'amica Cic prima di partire, destinazione Grenoble-Francia, per l'impegno europeo in Euroleague. Poi la Final Four di Coppa Italia di Rieti. Per il campionato, meglio, per le due giornate che restano bisognerà attendere gli inizi di aprile, quando a Giulianova arriverà la lottomatica Elecom, seconda forza del torneo e distante quattro lunghezze. Batterla vorrebbe dire accorciare e sperare, solo sperare, in un aggancio all'ultimo giro di Boa. Per il momento va bene così, appuntamento al mese prossimo, sperando di portare in dote in Abruzzo qualche grande risultato in Coppa. Sì, abbiamo preparato tanto per questa partita perché era un punto fondamentale questa vittoria per andare a playoff. Però non possiamo molare perché stiamo in crescita per andare e giocare bene in playoff. Non possiamo pensare solo in ponteggio, ma fare bene per andare in playoff.